Ehi là, adesso l'hai preso per vizio, vieni sul davanzale, eh, vieni sul davanzale, oh, un po' che si vede bene, a mezzo metro, dai parla pure come la professoressa che tengo dentro e te la presento, eh, 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 tu non puoi parlare come la professoressa, guarda sembra che mi capisci, eh, 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 bella, bella, guarda qua, 40 centimetri, vuoi entrare dentro casa? Ti presento la professoressa, quella ti può fare un po' di scuola serale, eh, eh, 130 tra parole e suoni, quella è un corso, un corso che lo può fare da scuola, già, ho mai vicino un po' di più, ah, 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 eh, eh, Grazie a tutti.